Il Vicenza ha due risultati su tre, gli basta pareggiare per andare ai quarti, partita iniziata. Il tiro di Nicolás Truosolo, da lunga distanza è stato deviato in calcio d'angolo, batte in vernizi, bellissimo il pallone e bellissima la rete, bellissima la rete dell'Atalanta che va in vantaggio con Regonesi. Attenzione, vedete che poi ne scaturisce un'azione ancora a favore dell'Atalanta, eccolo Trevisan, attenzione un altro errore di Trevisan, Truosolo, dribbling, tiro, rete, rete dell'Atalanta che raddoppia con Truosolo. Un errore ripetuto di Trevisan nel disimpegno, ripartiti per 25 minuti del secondo tempo. Conferma tutta la bontà, l'importanza del vivaio atalantino storicamente tra i migliori d'Italia. Attenzione all'Otito in area di rigore e c'è il calcio di rigore, c'è il calcio di rigore netto devo dire. Calcio di rigore netto, fallo di Regonesi sull'Otito. Ecco Mancini, rincorsa, tiro e rete, rete di Mancini. 2 a 1, accorcia le distanze il Vicenza. 2 a 1, mancano 5 minuti alla fine. Retropassaggio. Ecco il fischio, ecco il fischio ed ecco il tripudio della formazione bergamasca che vince 2 a 1 contro il Vicenza e si qualifica. Grazie. 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 Grazie.